Ciao! Allora, so che il titolo non equivale al trucco che mi vedete in questo momento perché sto girando l'intro in un giorno diverso da quando ho girato il make-up tutorial perché siccome avevo lo sfondo bianco non mi sono resa conto tra softbox e sfondo che non ero praticamente a fuoco perché non mi vedevo quasi dallo specchiato della reflex quindi tutta l'intro dell'altro video è praticamente inguardabile cioè non inguardabile, non si vede niente perché è tutto sfocato allora, perdonate il caos alle mie spalle però appunto non mi andava di prendere il cavalletto questo e quell'altro per mettermi nell'altro angolino della camera e bando alle ciance, questo qui sarà un make-up dove utilizzerò pressoché quasi tutti i prodotti della Make-up Revolution in particolar modo vi volevo far vedere questa palette perché me ne sono praticamente stra-innamorata io volevo comprare la versione di Too Faced, l'originale, la Love Chocolate Evolution e mi hanno chiesto, insomma, cosa io volessi e assolutamente io volevo provare questa che è la palette I Love Me Makeup o I Heart Chocolate sono 16 eyeshadow, praticamente, appunto, è praticamente identica a quella lì di Too Faced col semplice fatto che questa qui costa praticamente 8 dollari allora, io non so se rende in fotocamera, spero di sì perché non ho praticamente le luci non si vedrà un cazzo però fidatevi di me che la sto utilizzando tantissimo la sto utilizzando praticamente tutti i giorni e lo capirete dagli ombretti praticamente tutti quanti belli scavati soprattutto il panno opaco che, ragazze, un panno opaco di queste dimensioni in una palette è praticamente amore per i miei occhi e sono colori opachi e shimmer ci sono tanti marroncini opachi io impazzisco praticamente per i marroncini anche perché comunque vi potete rifare anche le sopracciglia se il colore è lo stesso e ci sono tanti opachi glitterati che appunto mi fanno impazzire un altro pezzo forte di questa, insomma, della Makeup Revolution è questi blush sempre ispirati a Too Faced in realtà e praticamente guardate qui che spettacolo ve lo faccio vedere meglio nel video, ve lo faccio anche vedere indossato è inutile che mi sporchi perché vado di fretta e sono, ragazze, una cosa favolosa e vi faccio vedere l'ultima cosa che mi ha colpito più di tutte ovvero il rossetto il pack è questo qui, meraviglioso e il rossetto è questo qui cioè, parliamone ora, pure il rossetto se è una schifezza però questo qui, cioè ragazze, come fate a non comprarlo? ha praticamente quasi lo stesso pack MAC, scusate ma gli altri rossetti MAC li ho in valigia da trucco è forse un pochettino più grande e il colore è spettacolare in realtà questo qui si chiama Totally Not Boring bellissimo è un viola che con una sola passata è abbastanza chiaro però comunque si nota però appunto con più, insomma, se ne mettete un poco di più avete praticamente lo stesso colore del rossetto e ragazze, bando alle ciance perché ho parlato veramente troppo vi ho fatto vedere la maggior parte delle cose che amo di questo marchio che comunque già sto provando da un mese no, ragazze, più di un mese ma che so, dimmi i paremi siano arrivati tipo a giugno e niente, sono stata felicissima davvero di collaborare con loro è per i prezzi bassi che hanno il rossetto non mi ricordo quanto costi ma tipo 2-3 dollari veramente, voglio assolutamente fare un ordine perché le cose sono super economicissime e sono davvero anche molto molto valide non perdetevi i promossi e i bocciati di questi mesi perché sicuramente vi farò vedere anche il mascara che è molto unni e niente, spero che il make-up più spero che il make-up più vi piaccia scusate questa versione di me così brutta io ovviamente non me ne tiene né di passare la piastra né di passare, di asciugarmi i capelli quindi a me le lascio così, metto un po' di schiuma e sono a posto mi mando un bacione ci vediamo al prossimo video ciao fatemi sapere con un commentino se vi piace il look non questo ma quello e niente, scusatemi il punto di questo intro diverso mi mando un bacio ciao 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 ciao